ciao a tutti vorrei presentarvi gli chef stellati di babylon di cucina internazionale che oggi ci prepareranno un piatto tipico russo un piatto che non può mancare per nessuna ragione sulle nostre tavole durante le feste o ricorrenze speciali si tratta dell'insalata alivier che ha poco a che fare con l'insalata russa che conoscete voi comunque lo scoprirete adesso oggi i nostri cuochi ci insegneranno tutto il procedimento passo passo l'unica cosa che vi potrebbe aiutare a seguire meglio la nostra ricetta è un dizionario russo ecco a voi i nostri elena tiziana e federico ciao a tutti Io voglio alievi. Bene. Mi bisogna 2 carci, goroce, 300 gr di urizzo, 2 ricci, un pochè, un pochè, un pochè, un pochè, e un pochè. Sначала mi otvariamo carcassi, morcassi e aici. Variamo 20 minuti. Ovoci e aici. E oggi è un pochè un pochè e un pochè e un pochè e un pochè un pochè e un pochè e un pochè e un pochè e un pochè io riegio il pietrosco e io e io prendo vino. E poi smasciare le salatine. del pietro piacere garaoce garaoce un pietro di due piere Un pochè e una Ok, e una maionese e si smieciano salat gatov, piatnava appetita e piatnavova appetita da zavtra